ecco voi amici e questa è la nuova collezione dell'edito sono i Frogs Econio Edition ecco voi questo è il mio primo Frogs Econio Edition e questi sono i miei giocattoli ecco adesso è l'apertura dei Frogs Econio Edition vediamo adesso che ci esce rana volante al retchino guardate che fa si appiccica non lo so se si appiccica però sembra che si appiccica e guardate cade come il rana volante allora rana volante al retchino gara di salto con la rana volante di Sarawak salto 3 scatto 3 armi segrete 2 ora ci da 3 nome scientifico si può cercare anche su Google Rakoporus Pardalis dove vive? la rana volante al retchino la rana volante al retchino vive nel sud est asiatico taglia tra 5 e 7 cm segni particolari segni particolari di questa rana speciale è il corpo slanciato con enormi piedi calmati e le sue armi segrete su e il mimetismo ecco ciao 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 ciao